John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del giorno dopo come sempre ormai lo sapete ragazzi il giorno dopo la partita della Roma si parla in modo più approfondito della gara Allora partiamo da un presupposto importante poi parleremo anche della gara devo dire una cosa importante no? Allora ho letto un po' ieri i commenti sono molto contento perchè ho notato tranne qualcuno che coglione è bloccato perchè ragazzi potete dire la vostra potete essere d'accordo o non d'accordo ma gli insulti vengono sempre bloccati Al di là di questo ho notato che ci sono stati molti commenti costruttivi il che mi ha fatto molto piacere E su Ricore se ne è parlato tanto che secondo me era nettissimo penso più o meno secondo tutti visto che poi l'hanno ammesso anche tutti gli interisti ok Spalletti allora ragazzi parliamo prima una cosa Luciano allora io non sopporto non tollero poche persone mi stanno molto simpatici quasi tutti Cioè a me raga io sono una persona molto solare quello mi sta simpatico all'altro mi sta simpatico all'altro mi sta simpatico tutti simpatici a me mi stanno Una persona che non sopporto è Luciano Spalletti ok non l'ho mai sopportato nemmeno a Roma Quando ha cominciato a focalizzare l'attenzione su di sé come se fosse Mourinho quando in realtà non ha mai vinto uno scudetto Ma ma sì poi direte l'ultima coppa che avete vinto ve l'ha vinta Spalletti in realtà mi parete sì ma ragazzi eravamo noi all'Inter punto Cioè le altre erano tutte disastrate chi con i punti di penalizzazione chi lottava per arriva in Champions Non eravamo lì praticamente partiamo da più 40 rispetto alle altre arrivavamo secondi sotto 50 punti sotto l'Inter Ci sta che vinci un trofeo ma poi dipende su che cosa ti impegni su quali fronti ti impegni Poi che Luciano Spalletti sia assolutamente un grandissimo allenatore perché ragazzi capisce ok in Italia è uno di quelli che ci capisce di più Io non lo metto in dubbio però non lo sopporto posso non sopportarlo Va detto a suo favore l'unione che voglio dire a suo favore è che in conferenza stampa dopo la partita hanno parlato di tutto Tranne che dalla partita e del rigore e del padre di Lautaro e dell'addio dei Totti e del libro dei Totti No cioè nel senso venga a fare la conferenza però ragazzi Spalletti è questo cioè nel senso si è costruito questo personaggio Quando Di Francesco va a fare la conferenza stampa gli chiedono di chic magari gli chiedono anche del rigore Ma gli chiedono di chic gli chiedono delle assenze gli chiedono come ha visto Perotti gli chiedono di pastore gli chiedono di zaniolo Se tu arrivi in conferenza e ti chiedono del padre di Lautaro se ti chiedono del libro dei Totti se ti chiedono C'è qualcosa che non va probabilmente si è costruito un personaggio affinché il giornalista vuole accaparare le notizierate perché tu dai notizie Perché focalizzi l'attenzione su di te Ora al di là di questo perché ho fatto tutto il suo discorso tutta sta manfrina Perché ieri ragazzi Spalletti si è presentato in conferenza stampa e ha detto L'arbitro l'arbitrato molto bene l'arbitragio è stato perfetto gara diretta perfettamente Poi ha detto forse c'era quel rigore che non è stato dato però di sicuro me ne manca uno sui cardi Ora sinceramente sul rigore tra i cardi e Manolasa se ne può parlare anche se secondo me ragazzi quello è un contatto Cioè nel senso sono lì sono lì sono alla pari guardatelo sono alla pari però su quello ci si può parlare Ma che tu mi vieni in conferenza mi vieni da caressa a dire che il rigore della ma forse c'era Quello dell'arbitro c'era sicuramente raga basta c'è un po' di oggettività ok un po' di oggettività Io Spalletti non lo sopporto tra le altre cose alla fine si è messo a fare anche il teatrino E a me sinceramente che tu che a fine primo tempo sai ok che ti hanno dato Che ha segnato su un controllo sul rigore che c'era e che non è stato dato ok Lo sai quindi tu nel solito entri in campo sapendo questo ok Che per un calcio di punizione dato al 90 potenti non mi metti a fare il teatrino E impazzisci in panchina c'è qualcosa che non va in te Cioè nel senso c'è qualcosa che non va in te ma penso che questo sia palese Al di là di questo parliamo della gara A me è piaciuta la gara della Roma non sono d'accordo con molti Ho detto l'Inter meritava la vittoria non sono mai d'accordo Secondo me il pareggio è più che giusto Anzi la Roma ragazzi ha preso un palo con Florenzi Andrani ci ha fatto 3-4 parate di cui fra l'altro una all'incrocio bellissima Riparisco il rigore ma poi se ne può parlare o se ne può non parlare L'Inter ha fatto una dignitosissima partita è stata una bella partita Molto molto aperta ma sinceramente io non vedo in alcun modo la possibilità Che l'Inter meritasse la vittoria Secondo me il pareggio ha risultato molto molto giusto Tra l'altro sono anche orgoglioso di questa Roma Che praticamente era una Roma B ragazzi Perché a noi ci mancava Giego Ci mancava Fazio Ci mancava De Rossi Cioè sono i tre praticamente perni di ogni ruolo nostro Diciamo Fazio no più Manolas Però insomma Fazio è il titolare abbiamo messo Jesus Stavo per morire Merite tutto sui Quindi vabbè Al di là di questo Al di là di questo Poi mettiamo anche che mancava De Rossiarau I Pastore e Perotti erano praticamente acciaccati Sono entrati soppicando Quindi sono molto orgoglioso della Roma che è scesa in campo Che tra l'altro avevamo un attacco che c'era Era composto da Hunderra che l'hanno recuperato oggi pomeriggio Pure bene tra l'altro che ha fatto un gol all'incrocio Quindi tanta roba Il centralanti ha fatto un gol in Serie A in due anni Ragazzi circa un gol in Serie A in due anni Tanta roba E di là c'era quello che fa il terzino da 15 anni Florenzi ha fatto due anni che il terzino a destra E giocava alto a sinistra Quindi capite insomma eravamo più adattati noi Non lo so che Che veramente non lo so perché non trovo più niente di più Di qualcosa di adattato rispetto a questo Comunque hanno messo veramente una bella partita in piedi Complimenti all'Inter e complimenti alla Roma Una gran bella partita Parliamo dei singoli come faccio sempre Olsen ragazzi in ripresa Mi piace Sta giocando molto bene Oggi più Oggi e ieri in realtà Più sicuro Tanta roba tra i pali Fra le altre cose Ha preso due gol E su cui secondo me non poteva fare veramente nulla Mi sembra sempre più sicuro Magari ha sbagliato in un'uscita Dove io sarei andato un pochino più diretto Fositato in lui Però siamo lì Non è che possiamo magari vedere veramente Ogni minima cosa Santon Allora Santon non mi è dispiaciuto Visto che qualcuno gli ha dato un'insufficienza A me non mi è dispiaciuto Tu devi sempre sapere chi hai come giocatore Ok Santon non è cola roba Ok È un giocatore È un gregario È semplicemente un gregario Tu lo metti là È un giocatore discreto Che ti può dare una mano Ovviamente Se Keita me lo va a puntare sempre E nessuno gli va a dare una mano in raddoppio Ci sta che Keita Una volta su due passi Ragazzi ma perché è così? Perché Keita è un bel giocatore Che in velocità ti mette in difficoltà Perché Santon è un buon giocatore Da 6-6,5 Ok Almeno a Roma A Milano era da 4 A Roma è da 6-6,5 Non ti puoi aspettare però Che Santon faccia una chiusura Superi Keita E faccia un dribbling Arrivi a fondo campo E metta un pallone al centro Perché questo non è Santon Se tu da Santon ti aspetti Marcello La vedo dura Però secondo me Non ha fatto una brutta partita Qualche volta Sarò saltato Un 6-0 Per me lo merita Per dire Manolas è provvidenziale Veramente provvidenziale Gioca benissimo Dietro Chiude tanto Mi è piaciuto tanto È piaciuto tanto Secondo me è stato il giocatore In più della fase difensiva Per quanto riguarda invece Juan Jesus Di cui molti secondo me Starete aspettando La mia opinione Allora Juan Jesus Per me non ha giocato bene Malino C'è da dire anche una cosa Però A meno a mio modo di vedere La partita di ieri Di Juan Jesus Ragazzi È correlata Direttamente C'è proprio un filo Logico Che lo collega Al calcio mercato Estivo Cosa voglio dire Con questo Ragazzi Ieri Allora in questo momento È rotto De Rossi Che imposta Che non è un play De Rossi Ok Però imposta Cioè lui Lo fa lui Dal momento in cui manca anche De Rossi Tu non hai preso un play Ad agosto Lo sai che non hai preso un play Lo sai che non hai preso nemmeno un giocatore In qualunque ruolo Che possa impostare Partendo da dietro Quindi fa impostare Jesus Però devi sapere anche Le armi di Jesus Ragazzi Cioè non vi potete aspettare Che Juan Jesus Prenda il pallone E faccia una verticalizzazione Alla Totti Che mette in porta Un der Perché questo Non succederà mai E quindi dal momento in cui Tu non hai fatto niente Nel mercato estivo Per rimediare a questo A questo gap A questo buco A questa mancanza Devi sapere che Ok Un lancio Su tre magari Arriva anche all'esterno Però Jesus Non è pianice Per dire Ok Jesus Non è un play E quindi Magari su De Rossi Due su tre Arrivano all'esterno A Jesus Uno su tre Arrivano all'esterno Quindi devi anche capire Chi hai Per il resto Jesus è Jesus Quindi insomma Non è che mi sento Di dargli una insufficienza Grave Ma nemmeno lieve Secondo me Più che altra Di impostare Qui l'errore è un filo diretto Con il calcio mercato Tanto tanto bene Colarov ha fatto sì L'errore sul gol Di Keita Però si è fatto Secondo me Per donare molto bene Prima Primo o dopo Vabbè Comunque con il Con il tiro dove Andanovic La mette il ditino lì E la para All'incrocio dei pali Facendomi porconare E poi anche sul calcio di rigore Lì ragazzi Chi batte Chi batte Chi batte Colarov Mi frega niente Senza paura Prende il palone Lo mette lì Tira il bolide E tutti a casa E tutti a casa E due a due Quindi insomma Anche lì ci vogliono le palle Quindi colarov tanto di cappello Se ne parlano Col mio vicino di stadio Invece per quanto riguarda Cristante Giovanni Lo saluto Se mi stavano Perché mi segue spesso Quindi ciao Giovanni Cristante ragazzi Sta facendo l'RTG Che non è il Road to Glory Sta facendo il Road to Gone Alone Cioè ragazzi Cristante c'ha un problema Ok È lento È lento in tutto Ci hanno dato praticamente Il cugino un po' più Ritardato Con tutto il rispetto Ovviamente Perché non Perché provo rispetto Perché può indossare la mia maglia Di Cristante Nel senso è lento È lento a pensare È lento a produrre gioco È lento a verticalizzare È lento a passare in avanti Perde due o tre tempi di gioco Ogni volta E questo non può essere Ok Perché poi ti hanno pagato Anche 30 milioni Quindi è stata fatta forse Una valutazione errata In fase di mercato Però questo non esiste Nzonzi Nzonzi è sufficiente E il problema ragazzi È sempre la valutazione di mercato Io non conto mai Per la valutazione di mercato Perché magari un giovanissimo Lo paghi 30 Il primo anno Ti fa una cagatina Il secondo esplode Ok però Nzonzi ha 30 anni Quanti c'è una? 29 30 Quindi Il fatto che tu l'abbia pagato 25 milioni O quanto ti hai pagato Quindi una barca Io non mi aspetto Che tu faccia il compitino Ecco Da Santon mi aspetto Che tu faccia il compitino Da Nzonzi Campione del mondo Pagato 30 25 30 milioni di euro 30 anni Mi aspetto che tu faccia la differenza E questo non avviene Poi la partita è sufficiente Però la differenza Non la fai Under Under ragazzi Fa un gol pazzesco Poi se sbaglia Un gol sottoporta Con il tocco Sbilenco 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 Come si dice Beh Under diciamo Uno dei migliori in capo Fa quel gol Che mi ricordano tanto La Ingolana Due anni fa In Inter Roma Mi sembra Era Inter Roma Si era fuori casa Bravo Under Bravo Under Di Francesco L'unico errore che fa Anche se poi secondo me Non ha grandi colpe Perché questa oggi Andava vinta Diciamocelo Per mangiare tre punti All'Inter In lotta Champions Anche perché poi L'Inter Se non più C'ha Juve e Napoli Sembra Quindi insomma C'ha Juve Poi Non so se c'ha subito Il Napoli Comunque c'ha Juve La prossima Quindi Potevi mangiare sei punti Qualora tu avessi fatto Una doppia vittoria Non ha grandi colpe L'unica colpa Secondo me È quella di aver messo Pastore Perotti insieme Che comunque Sono due giocatori Che ti dovrebbero dare velocità Però un conto è se Li metti in pieno Delle loro forze Perotti non giocava da cinque mesi Pastore ha ciaccato Hanno fatto vedere qualcosina Attenzione Pastore Però ti sembrava tipo Totti Con dieci anni di più Cioè nel senso Ovviamente Tipo lento Lento Però Ci sta Il fatto è che tu però Li abbia messi insieme Abbiamo un pochino ammazzato la Roma Infatti tra il 75 E l'85esimo La Roma è stata schiacciata In tutto e per tutto Lì è stata molto brava L'Inter Che è uscita fuori Ovviamente Lì ci hanno schiacciato ragazzi Ma lì quello è stato un errore Secondo me Direttamente Collegabile a Di Francesco Zaniolo Migliore in campo Zaniolo ragazzi Migliore in campo Io non so perché L'Inter ce l'abbia dato così Praticamente regalato Oh raga io Non è cattiveria Però un giocatore Da quando faccio i video Un giocatore come Zaniolo Che arriva a quell'età E ci fa questo Io poche volte l'ho visto Cioè un giocatore di quantità Di quantità Sta dappertutto Che non Lotto è a centrocampo Sulla tre quarti Sulla mediana Si va a prendere il palone In difesa Calcia 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 Ricorre che non c'ha noto Se l'era guadagnato lui Ragazzi Zaniolo è tanta roba Migliore in campo oggi Nicolo Zaniolo Florenzi davanti Ok prende anche il palo Partita semplicemente Sufficiente Schick Un pochino meglio Del solito Per quel colpetto Di tacco Un po' Che aveva preso il palo E anche perché Comunque aiuta un pochino La squadra Quindi andando in ripiego Ci fa questo favore Però ragazzi Non è quel giocatore decisivo Cioè non è incisivo Per nulla Non taglia sul primo palo Andano vince Quattro cinque volte Ha fatto delle belle parate Dove il palone è rimasto lì E non c'era Schick Non c'era mai Schick A tagliare Zaniolo tirava Andano vince parava La palla rimaneva lì Ma Schick deve tagliare Ma Schick deve Deve rompere le linee In mezzo così Bam E colpire il pallone al centro Cioè tu non puoi aspettare Così tanto E lasciare il pallone lì Che rimane Di pensioni dell'Inter Che lo spazzano Una volta va bene Due volte va bene Ma cinque volte è troppo ragazzi Quindi ok Schick Sufficiente Però mi manca sempre Quella scintilla in più Concludiamo Dico anche due paroline Sui giocatori dell'Inter Poi insomma fatemi sapere Quei cosa ne pensate Bravo D'Ambrosio Giorato bene D'Ambrosio Mi ha messo un po' In difficoltà Male Brozovic A parte il rigore Il 2 a 2 C'è tra la procuratori Ma poi Mi è sembrato un pochino A rilento Ha perso tanti palloni Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Granché sinceramente Brozovic Bene bene Keita Che punta sempre Sant'On Corre tanto Bella partita di Keita Icardi come dico sempre Dai una palla ragazzi Te la butta dentro Icardi Lì ecco Lì ci va detto L'errore della difesa d'Aruma Mi sono scordato Tu non puoi lasciare solo Icardi Cioè tu hai due giorni Da coprire Icardi e Screener Ok Poi anche gli altri Ma soprattutto Icardi e Screener Non puoi lasciarli da solo Da soli Cioè nel 2018 Prende ancora gol direttamente Da calcio d'angolo Manco su FIFA Cioè figlio mio Manco su FIFA Le marcature Ok l'hanno inventate Nel 51 Per favore Basta Ok Perisic è malissimo Quindi se devo dire Migliore in campo dell'Inter Keita Poi Icardi E poi D'Ambrosio Peggiore in campo Secondo me Prima di tutti c'è Perisic Ha fatto malissimo E poi Brozovic Insomma L'ho detto due paroline Non lo faccio mai Però insomma Visto che c'avevo Intenzione di dirlo L'ho fatto Fatemi sapere invece Nel commento sotto Ragazzi Tanti mi piace Per questo video Lungo De mattina Grazie per aver visto Questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Buon ciao Alla lì come sempre Ci vediamo ad un prossimo Video Ciao Ciao Grazie a tutti.